Dicorato, sale il regista giallorosso in mezzo al campo, si stacca l'udovici, Gigi servito un po', Macchino usano il controllo, ripartenza dell'Inter, attenzione il pallone per Jürgens, lo tiene bianchino, lo tiene bianchino ma c'è il tunnel di Jürgens, il gol dell'Inter, 3 a 2. Tottottesimo, ancora gol dell'Inter. She see that my eyes spilling, my eyes spilling, gone. She see that my eyes spilling, keep freezing, patrol in my section, how you drunk, how you feeling? See my G on the run, he don't run, he squeezing. I was sleeping alone, now these hoes, they won't leave me.